Tra gli effetti della guerra in Ucraina figura il rischio di una crisi alimentare globale in grado di impattare i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. Secondo le stime della FAO, i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare complessivamente del 20% nei mesi a venire, aggravando l'insicurezza alimentare di un'area già instabile. Il blocco dell'esport di grano, olio di girasole e altri cereali di Russia e Ucraina si ripercuotono su quei paesi fortemente dipendenti degli importi di queste materie prime e di conseguenza è minacciata anche l'intera stabilità politica dell'area.